Eccoci, eccoci. Benvenuti a questa live che abbiamo organizzato in occasione della Finance Week, questa iniziativa settimanale in cui cerchiamo un pochettino di toccare vari aspetti e vari punti che sono, diciamo, di discussione negli ultimi tempi con degli esperti di settore o con dei personaggi, insomma, un pochettino di spicco, cercando un pochettino anche di sviluppare un po' di curiosità, diciamo, nelle tematiche di ambito finanziario e non solo, insomma, argomenti adiacenti. Oggi con noi abbiamo Dimitri Stagnitto, che è il fondatore e CEO di Money.it. Benvenuto, Dimitri, e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, devo dire che siamo molto contenti perché, insomma, noi siamo ancora una piccola realtà, insomma, avere una persona che, insomma, diciamo, ha scalato nel tempo un po', diciamo, le gerarchie, quindi è diventato, ricordo che penso che Money non abbia troppo bisogno di una presentazione, però, insomma, Dimitri è partito ormai nel 2006, forse anche un po' prima, con la sua attività e adesso Money è una delle, diciamo, realtà di informazione finanziaria non solo più importanti dal livello digitale in Italia, con 12 milioni di visualizzazioni mensili, medie, quindi abbiamo veramente tanti complimenti, ecco, perché, e poi devo dire, a differenza di magari anche altre realtà digitali, insomma, è una realtà che si mantiene, devo dire, finanziariamente solida, quindi complimenti, lasciami dire. Questo è importante e, devo dire, ultimamente non è scontato, ecco, con tutte le start-up che, le start-up comunque realtà che nascono, che sono buchi neri, se vogliamo, quindi complimenti innanzitutto, ci tenevo a fare. Ci conto, ci tengo anche a dire che, soprattutto nel vostro caso, le botti piccole fanno il vino buono, quindi... Ti ringrazio. ...che attraverso anche questo momento, cercate di mantenere la qualità poi crescente. Certo, ti ringrazio, ti ringrazio. Infatti, sono contento, ecco, che pian piano stiamo, diciamo, stiamo avendo un certo seguito, quindi siamo contento che pian piano anche le persone riescano a riconoscere la qualità dei contenuti. Direi di iniziare subito, insomma, con il menu di giornata. Oggi parleremo di intelligenza artificiale, parleremo un attimino di quelli che sono i numeri, no, di questa realtà, gli investimenti che ci sono stati e che ci sono attualmente nel settore e quelle che tu ritieni possano essere da imprenditore digitale, che conosce molto meglio di noi il mercato, quelli che possono essere magari le evoluzioni, ecco. Se ci troviamo banalmente nel solito hype generato, ovviamente, dalla narrativa, dalla stampa, o se veramente c'è qualcosa da temere o eventualmente delle opportunità da sfruttare e in che modo. Ecco, quindi direi innanzitutto di... ecco, cerco di quantificare un pochettino i numeri, no? Ovviamente, a seconda delle fonti, ci sono sempre riferimenti differenti, ecco. Per esempio, Statista parla nel 2022 di un mercato dell'intelligenza artificiale che vale circa 200 miliardi, che ha teso crescere all'incirca del 30% all'anno nei prossimi otto anni e arrivare addirittura alle soglie dei due trilioni tra otto anni. Ecco, quindi parliamo veramente di cifre importanti, però come leggevo in un articolo pubblicato proprio da Dimitri, quest'oggi su Mani, diciamo, per la versione Pro per gli abbonati, c'è anche da dire che di questo mercato... Ecco, infatti, devo dire che secondo me mi trovo molto d'accordo sul fatto che di questo mercato abbiamo pochi numeri storici, ma, sai, tanto dire, tanto parlare, quindi è anche difficile poi andare a stimare effettivamente quanto grande e come possa evolvere questo mercato. Sì, come scrivevo oggi sull'articolo, l'intelligenza artificiale è stata un po' un'etichetta di marketing che è stata appiccicata su una serie di cose e che continuerà ad essere posizionata su una serie di cose. Tanta roba che oggi chiamiamo intelligenza artificiale, fino a qualche anno fa, aveva l'etichetta di big data. Questo perché la tecnologia andava evolvendosi verso la raccolta, verso la strutturazione di database in grado di raccogliere dati. In seguito c'è stato, sulla base di questo tipo di sviluppi, ad esempio più importante in questo senso, il prodotto di Amazon AWS, che di fatto è stato negli ultimi anni un prodotto più redditizio dello stesso marketplace su cui tutti compriamo oggetti. Quindi ecco, l'evoluzione del settore già da tanti anni è andata verso questo tipo di direzione, quindi una direzione di raccordo e stoccaggio di dati. Adesso quello stesso settore, in continuità, cioè nei fatti c'è una continuità, dal punto di vista invece di come lo comunichiamo, di come viene comunicato, c'è stata come una scesura, per cui è finita l'epoca dei big data ed è cominciata quella dell'intelligenza artificiale. Si tratta di vera intelligenza? No, nel senso che da un lato dovremmo metterci a discutere con dei filosofi sulla definizione di intelligenza, che è una parola insomma su cui bene o male ci capiamo tutti se la usiamo, ma poi vagli a dare una definizione, è piuttosto complicato. In realtà è sicuramente il frutto dell'intelligenza dell'uomo che ha perfezionato tanti rami della matematica, della statistica in particolare e ha perfezionato anche tecnicamente delle macchine sufficientemente potenti da eseguire quella matematica ed è venuta fuori una capacità abilitata anche da questi big data raccolti negli anni passati di andare ad analizzare e fare inferenze su questa grandissima mole di dati. Quindi abbiamo questi super computer che mangiano e digeriscono quantità ingestibili ovviamente per qualsiasi essere umano di dati e ne tirano fuori delle inferenze attraverso metodi statistici che spesso sembrano molto significative. Il fenomeno di quest'anno è stato chiaramente chat GPT che ci dà l'illusione di conversare in maniera falsamente creativa con un altro essere intelligente è soltanto uno degli aspetti di ciò che questi processi possono tirare fuori. Però ecco, è illusorio. Io ricordo che da bambino, di fatto, il mio primo approccio alle chat online fu la chat di Lycos che era una chat anche bellissima. Noi siamo di un'altra generazione. Anch'io rispetto agli altri che c'erano su era di un'altra generazione. Però devo dire che nella chat di Lycos che era ambientata in una sorta di nave con dei personaggi che popolavano questa nave c'era il capitano, c'era la firma, eccetera in delle stanze c'erano dei bot e io ho, stiamo parlando dei primi anni 2000 e io ho conversato con questi bot che semplicemente avevano dei messaggi registrati e con grande, diciamo, buona fede ci parlavo prendendoli per molti scambi per persone reali. È vero. Ecco, chat GPT vent'anni dopo rende molto, molto più raffinato quel processo lì ma l'illusione è la medesima. Detto questo, non si tratta assolutamente di tecnologie da poco o che servono soltanto per fare, diciamo, giochi di prestigio anzi, di fatto è una tecnologia molto potente se utilizzata negli ambiti corretti potenzialmente molto distorsiva anche del nostro modo di relazionarci con il mondo se l'intelligenza artificiale comincia a diventare un elemento presente nel mondo e dobbiamo tenere conto che nel nostro vivere viviamo ormai con uno schermo davanti che sia quello del computer, molto più spesso quello dello smartphone quindi veramente nel nostro mondo del quotidiano rischiamo di interagire tanto con questo tipo di tecnologie se vengono diffuse in maniera ampia ecco, diciamo che siamo in una fase in cui c'è sicuramente una sopravvalutazione del potenziale soprattutto in termini di campi di applicazione di queste tecnologie e quindi questo rischia di portarci in errore dal punto di vista della società nell'introdurre cambiamenti importanti di cui poi magari un giorno quando sarà troppo tardi potremmo pentirci dal punto di vista finanziario nell'investire su un trend che magari è già bello che ha già dato il suo e su che è difficile stabilendo che il trend possa esserci anche in futuro trovare un punto di ingresso certo infatti tra l'altro leggevo una ricerca in merito e parlavano proprio del fatto che gli etf settoriali tipicamente non solo underperformano quindi sottoperformano nel medio periodo gli indici diciamo generalisti ma tendenzialmente tendono a avere performance negative perché quando vengono lanciati vengono lanciati proprio per essere venduti in pieno hype quindi tipicamente si posizionano su prezzi mediamente più elevati per le società di quel settore lì e quindi finisce che poi generalmente essendo entrati su posizioni abbastanza elevate in termini di prezzi finisce che poi rendono veramente poco è stato il caso ovviamente si può parlare di tanti casi tra virgolette simili il più recente è stato quello del metaverso dove c'è stato un boom su alcune società mi viene in mente per esempio Matterport una società piccolissima di 100 milioni di fatturato ampiamente in perdita che dalla sera alla mattina ha visto il suo prezzo volare più 100% nel giro di poche settimane soltanto perché aveva un contratto con Facebook per la visual recognition per fare i prodotti di visualizzazione 3D quindi insomma di lì c'è stata ovviamente un sacco di speculazione che poi dopo qualche mese come raccontavi anche tu sai il mercato un po' rinsavisce si rende conto posso dire di aver partecipato come money.it a degli eventi legati alle start-up dove varie start-up presentavano le loro idee e il loro pitch l'anno scorso non ce n'era una che non ci avesse infilato il metaverso in qualche modo è bello ovviamente è beh giusto no no ma infatti ma guarda lo dico anche da analista cioè se tu adesso guardi le trimestrali non c'è un analista che non fa la domanda sull'artificial intelligence è incredibile però effettivamente sai è quasi un atto dovuto allora secondo me c'è una differenza sostanziale tra i due ora è facile dirlo dopo ma ho testimoni insomma di quella che era anche la mia idea sul metaverso un anno o due anni fa mi sono trovato anche in zona city life ci sono società di consulenza importanti e e mi sono diciamo ho avuto una uno scambio lì in cui da un lato loro avevano creato una unit che quell'anno stava una unit che vende innovazione stava vendendo il metaverso e e io insomma che tendo a dire quello che penso lo davo già già per morto ovviamente non non devo aver figurato molto bene in quel momento forse oggi diciamo ti guardano un po' un po' più mi immagino che esco da city life a passo lento quindi forse a parte il tema qual è è che dal mio punto di vista il metaverso si poteva vedere tranquillamente già dagli inizi che fosse una una bolla per due motivi uno le premesse da cui parte abbiamo una società come facebook che è un po' come tante società del comparto che adesso quest'anno un po' si stanno riprendendo ecco magari proprio sulla scia di questo hype ma già l'anno scorso sono giunte un po' ai colpetti nei nodi sono società che si sono sempre basate sull'aspettativa futura quindi facebook era un'azienda che valeva già milioni o miliardi quando non fatturava ancora una mazza la stessa twitter l'anno scorso Musk l'ha comprata per miliardi ed è una società che perde soldi questo perché in quel mercato si sono sempre prezzate le aspettative il problema è che il settore man mano cresce matura che diventi leader dell'universo nel tuo settore e che cosa vai a promettere ai tuoi investitori e quindi te ne diventa una cazzata sostanzialmente no è vero è vero sono d'accordo con te effettivamente detto diciamo anche in termini proprio di analisi finanziaria diciamo di solito la valutazione aziendale viene fatta come dire a due fasi l'attualizzazione dei flussi di cassa e poi quello che si chiama terminal value cioè quello che barrà la tua società nel momento in cui si stabilizzerà e crescerà tutto sommato in linea con il mercato se la tua società non ci voleva arrivare e bene o male è stata una comunione di interessi anche con chi ci mette i soldi con il capitale in senso lato che sia i mega ricchi dell'universo che quota parte anche noi con i nostri fondi pensione perché il capitale cerca remunerazione cerca almeno per una quota la promessa di qualcosa che renderà molto in futuro e mancando veramente in realtà nell'ultimo decennio delle innovazioni vere dal punto di vista di ciò che veramente cioè innovazioni vere che potremmo avere magari sono una nuova batteria che non inquina che non ha problemi quando va a fuoco e che si ricarica in secondi anziché in ore quello potrebbe essere un cambio di paradigma che magari dà una solidità a un senso a tutto comparto che a sua volta proprio per il collo di bottiglia delle batterie oggi è come dire una promessa in attesa di essere mantenuta per quanto vada comunque molto di moda però ecco anche Tesla ai suoi massimi di appersi e tutto il resto del comparto che per un verso o per l'altro si sta elettrificando sta andando in una direzione che per ora è terra di nessuno nel senso che chiaramente l'elettrico attuale non si sostiene sotto tanti aspetti e l'elettrico futuro per ora è nei libri di fantascienza o comunque nel negozio e tornando al metaverso il concetto qual è? Facebook aveva questa esigenza di inventare un nuovo grande progetto che giustificasse grandi investimenti un impiego anche della liquidità che avevano accumulato fino a quel momento e la loro visione insomma avranno avuto i loro confronti eccetera a un certo punto si sono convinti di questa è stata un'organizzazione molto come dire molto anche frettolosa caotica adesso Facebook ha licenziato decine di migliaia di persone che sono venute fuori in tante situazioni intervistandole che sono state assunte sono state messe nel progetto ma non avevano un ruolo e quello che ne è venuto fuori poi l'abbiamo poi visto la roba da che second life era fatto meglio e quindi c'era c'era questo tipo di spinta una spinta di aspettative da parte di Facebook di crescere di diventare leader di un nuovo di un nuovo mercato da parte degli investitori di mettere i soldi in mano a qualcuno che glielo avrebbe moltiplicati un po' come col gatto e la volpe e difetto aveva quell'idea dal mio punto di vista che se anche fosse stata eseguita al meglio prevedeva l'utilizzo di un visore e ovviamente a me ad esempio piacciono i videogiochi ed è un un tipo di ecco sotto lockdown stavo per comprare un visore non l'ho non l'ho più fatto ma ho letto le varie recensioni eccetera e ho visto che c'era un problema al di là del costo c'era un problema importante e il problema importante era dato dal dal fatto che alla maggior parte delle persone fa venire da vomitare fa venire il mal di mare concettualmente oltre al fatto che appunto ragazzi stiamo parlando di passare perché quello che volevano imporre era di fatto un paradigma passare da ok utilizzare il cellulare eccetera il telefono c'è entrato nella vita oggi ci domina ma c'è entrato nella vita in maniera molto molto come dire graduale anche Jobs come eredità non ci ha lasciato lo smartphone pace all'anima sua però ecco un conto è passare dal Nokia 3310 all'iPhone c'è una gradualità c'è una come dire abbiamo fatto in tempo ad abituarci e anche a desiderare gradualmente via via le nuove funzioni fino ad averlo come pezzo della nostra vita un conto è dall'oggi al domani smettere di usare il cellulare e cominciare a usare il visore insomma mi sembrava poco poco plausibile ecco la i è differente sotto questo aspetto in primis assomiglia più allo smartphone può entrarci nella vita in maniera subdola cioè possiamo renderci conto di quello che la i sta come dire dell'impatto che sta avendo su di noi solo quando ce l'ha già da un pezzo perché non la vedi perché è in una black box è nelle risposte che tieni quando ti interfacci con qualcosa o magari domani con qualcuno chi lo sa che non arriviamo anche a Blade Runner certo ma in realtà sono d'accordo e anche scusami se ti interrompo e la cosa che è evidente secondo me è che è molto ramificata cioè ce l'hai veramente in tantissime aree di applicazione no? cioè non è il metaverso sai il visore l'esperienza tra virgolette multimediale no? cioè tu potenzialmente puoi applicare quella capacità di analisi di calcolo a una serie infinita di processi ma la questione che già c'è cioè esatto io adesso lavorando sull'editoria digitale e quindi di fatto sul marketing digitale abbiamo a che fare tutti da utenti vedrete quelle che si chiamano CMT cioè quei banneroni che vi invitano quando entrate sul sito ad accettare le regole sulla privacy poi la roba lì esiste per una normativa europea dal mio punto di vista peraltro anche molto ipocrita perché non non definisce un limite a quello che si possa fare con i vostri dati ma semplicemente vi chiede di dare il consenso che siano utilizzati no? poi di preciso cosa se ne farà sta dentro le black box anche quello è un tema complesso per il legislatore perché però nasce l'esigenza ovviamente è un processo che è durato anni di andare a tentare questo caso è stato fallace dal mio punto di vista ma tentare di andare a normare no? la gestione dei dati è perché sta roba qui c'era già sta già emergendo adesso tutti avrete sentito dire ho avuto esperienza diretta di quando parlate vicino al telefono e poi vi spuntano a pubblicità di qualcosa di simile e non è che dentro c'è una c'è dietro una persona che ascolta c'è un algoritmo che funziona esattamente con logiche analoghe a chat GPT che come dire si acquisisce il dato dal 90% delle fesserie che ci diciamo durante la vita sono rumore quando diciamo qualcosa di significativo a livello di inserzioni veniamo clasterizzati per ricevere quelle specifiche inserzioni pubblicitarie che dal mio punto di vista in questo caso non utilizzo anche quasi di servizio cioè io preferisco vedere pubblicità che mi interessano piuttosto che pubblicità che non mi interessano chiaramente però non parlo soltanto di prodotti durante la mia vita e quindi se c'è quel tipo di come dire di ascolto posso immaginare che sia che sia sistematico e posso immaginare che le stesse tecnologie possono essere utilizzate per catalogare le mie credenze politiche religiose gusti sessuali eventuali reati che ho commesso e cose di questo genere qua certo e non è necessariamente roba del futuro questa no? il tema è che è intelligenza artificiale serve anche a questo l'etichetta non soltanto a creare marketing magari a creare anche classi di investimento ma anche a come dire a dare una definizione semplice e falsamente intuitiva di una roba che in realtà è molto complessa e che dal mio punto di vista meriterebbe un serio e cioè la società ogni membro della società dovrebbe essere chiamato un po' come in un'antica a informarsi sull'andamento della vita pubblica e ad avere un'opinione forte su questi temi perché sono e da un lato è sopravvalutata dall'altro è comunque uno strumento potenzialmente molto potente sì sono assolutamente d'accordo infatti proprio per questo ne parlavamo anche prima della live ci sono stati dei casi di qualche società che ha parlato insomma degli impatti che questa intelligenza artificiale in qualche modo sta avendo sulle performance finanziarie e non solo anche proprio sulle scelte economiche delle società clienti e devo dire che tra tutte sicuramente quella che mi ha fatto più come dire drizzare le orecchie è stata quella di Teleperformance Teleperformance è una società francese quotata al CAC a Parigi una società che fa outsourcing servizi di call center per aziende terze a buona parte dei propri dipendenti dislocati in Asia in Colombia Sud America in generale quindi base costi generalmente molto bassa loro hanno fatto hanno avuto tassi di crescita molto elevati perché c'è un progressivo trend di outsourcing delle imprese perché vogliono alleggerire chiaramente la base costi e mantenere una certa flessibilità tant'è che questa società storicamente è cresciuta del 15-20% all'anno in termini di fatturato addirittura durante la pandemia quando c'è stata tanta domanda di call center addirittura ha fatto più più 40 più 50% all'anno adesso primo trimestre più 2% di crescita ovviamente dopo questa questa delusione di crescita il mercato l'ha penalizzata ha bruciato praticamente il titolo 25% nel giro di un mese e il CEO ha detto iniziamo ad avere qualche impatto proprio dal diciamo da questa intelligenza artificiale perché alcune società scelgono chat GPT o diciamo strumenti similari per gestire servizi di call center outsourcing rispetto diciamo al nostro personale mi aspettavo insomma un pochettino come dire una certa negatività in realtà il CEO ha detto per noi è un po' quello che è stato il trend di offshoring tipo 15-20 anni fa cioè 15-20 anni fa molte società soprattutto le banche società globali hanno scelto di portare i servizi a minor valore aggiunto o magari la produzione che magari per quelle imprese soprattutto labor intensive in Est Europa in Asia quindi per ridurre il costo del personale di conseguenza società come Teleperformance hanno subito dei ribassi nei contratti perché ovviamente molte banche dicevano o ti pago tot altrimenti mi sposto il mio personale di e me la vedo io da sola Teleperformance quindi ha spostato tutto il suo personale in questi paesi qui alla fine della fiera diciamo il risultato è stato chiaramente un licenziamento impatti sull'economia dei paesi sviluppati in qualche modo per questo tipo di lavori però alla fine per Teleperformance l'impatto è stato marginale nel senso che poi è vero i contratti sono diminuiti in termini di valore però anche i costi della società una volta che sono stati per l'occupazione nel paese in cui questi servizi devono essere tutti amici miei perché mi chiamano tutti i giorni ah non lo diremmo sì sì infatti ormai non riesco più a bloccarlo questo è un tema su money si disquisisce della disoccupazione tecnologica credo da 2012 abbiamo cominciato a scrivere su questo filone ma che è un filone che c'è da sempre ai tempi c'è la famosa frase di Ford che diceva se avessi chiesto alla gente che cosa voleva mi avrebbe detto cavalli più veloci lui invece ha innovato e ci troviamo ancora oggi nell'epoca dell'automobile oggi finiamo sempre sull'automotive però questo ovviamente da un lato penso siamo più contenti oggi di andare in macchina che a cavallo oppure con tutti i problemi che ci portano magari il PM10 nelle città piuttosto che che le torte per terra quindi insomma comunque in qualche modo il problema rimane chi sicuramente ha vissuto momenti difficili sono stati i maniscalchi che in parte saranno diventati gommisti in parte meccanici in parte benzinai ma insomma è chiaro che in quel caso si sono persi dei posti di lavoro ma si è creato un altro indotto e chi bene o male minimizza il problema della disoccupazione per via tecnologica data da questo tipo di tecnologie fa esattamente questi esempi cioè non si può fermare il progresso anche perché il progresso stesso ricorda molto la mano invisibile di Adam Smith il progresso ci pensa da solo a riequilibrare il tutto ora posto che anche diciamo lo shoring è una forma di dumping di cui bene o male comunque io dal punto di vista dell'economia politica tenderei al protezionismo perché comunque come dire il reddito si distribuisce maggiormente se l'intersezione tra le economie è comunque limitata nel momento in cui apri i mercati è chiaro che si creano quei tipi di fenomeni lì perché sì è vero che i posti di lavoro che abbiamo perso in Italia magari li abbiamo creati in Albania in Romania è anche vero però che appunto non è forse esattamente la strada ottimale probabilmente la strada ottimale è supportare gli altri paesi che sono più indietro economicamente nello sviluppare un loro circuito economico piuttosto che svilupparsi per dumping rispetto ad altri no? Sì è vero magari avessimo innovato ecco come economia noi parlo dell'Italia sai magari oggi avremmo anche un livello medio di formazione nelle materie STEM tale da permettere tutto il mondo e la finanza ne è un bello specchio io apprezzo molto la finanza alla fine non per ricerca precisa ma insomma ci sono finito a fare editore nel campo finanziario e ciò che mi appassiona della finanza e che mi appassionava del trading all'inizio è che è uno specchio molto molto sincero della società e la finanza ti mostra il trading ti mostra magari a leva questa cosa quanto tutto si muova sulle aspettative no? noi possiamo avere una visione più o meno precisa di come sarà il futuro ma poi quando dobbiamo andare ad operare ecco io magari posso stare ci pensavo oggi preparandomi anche a questa diretta mi ero tutto contento di quanto ho una visione chiara del mondo e poi però mi sono autoposto nella condizione di dire ok quindi se oggi dovessi investire un capitale sulla mia visione del mondo cosa farei? e lì si apre un altro ordine di problemi perché io potrei benissimo avere ragione nel lungo periodo ma nel lungo periodo come diceva Keynes siamo tutti morti e il mio problema è ovviamente ecco intercettare anche il momento in cui allocare un capitale farlo fruttare quindi in quel senso con cosa ci confrontiamo nella finanza? ci confrontiamo con insieme delle aspettative di tutto il resto del mondo e leggendola così è come guardare una palla di cristallo è molto affascinante vedere gli andamenti sapendo cosa c'è dietro poi magari era più affascinante dieci anni fa quando anche lì c'erano meno algoritmi però come dire questo elemento per certi versi rimane ricordo con grande piacere magari ero anche più ingenuo però gli anni della mia formazione gli anni in cui ho scritto quello che poi è diventato maniche che era forex info io ai tempi appunto mi ero appassionato di trading a livello amatore e bene o male ho riportato sul sito un po' un diario della mia esperienza e ricordo che comunque si trovavano tutta una serie di bene o male regole non scritte o scritte perché desunte da come andava il mondo cioè roba tipo il carry trade sullo yen o cose di questo tipo qui era tutto abbastanza lineare per certi versi poi dopo il 2008 un po' per le politiche economiche aberranti che teoricamente forse anche qui in maniera meno lineare di quanto sembrerebbe stanno terminando oggi con l'aumento dei tassi un po' per via appunto dell'inserimento degli algoritmi all'interno delle decisioni di acquisto e vendita soprattutto in ambito di fondi istituzionali mi confermerai insomma ne hai più esperienza di me che non c'è tutta questa discrezionalità che c'era una volta nella gestione di un portafoglio al di là delle regole del fondo delle regole che hai hai anche tutta una serie di segnali della macchina che se li segui sei personalmente tutelato anche se perdi soldi se fai di testa tua se guaragni sei un fenomeno ma se perdi perdi il lavoro sì sì quindi è chiaro che quindi chi fa cioè chi sta speculando anche speculare sembra sembra una parola brutta che significa far soldi sulle spalle degli altri magari lo è anche è anche vero che d'altro canto si possono anche perdere i propri e farli avere a qualcun altro certo ma appunto speculare è la stessa cosa che fanno i filosofi no cioè è cercare di comprendere cercare di capire ed è in questo che è affascinante la finanza cioè io scommetto sull'aver capito quali sono le aspettative degli altri nell'orizzonte temporale dell'investimento che sto facendo da questo punto di vista per me è una cosa fighissima giustissimo è vero è vero volevo visto che mi sono dimenticato all'inizio siccome io e Dimitri potremmo andare avanti probabilmente fino a domani mattina a parlare se volete avete nell'icona in basso a destra potete anche porre qualche domanda quindi sentitevi liberi anche di di chiedere di approfittare visto che cioè Dimitri rimarrà ancora con noi per qualche minuto ancora quindi possiamo sfruttare un po' un po' del suo sapere diciamo che ecco se vogliamo convogliare un messaggio su diciamo abbiamo capito che forse puntarci finanziariamente non è il momento ecco è difficile intercettare quale sia effettivamente l'occasione perché comunque sono tecnologie che stanno viaggiando e sono a maturità nei grandi gruppi ora tra l'altro c'è molto fumo no? pare che il responsabile della ID Google si sia dimesso qua non vorrei rifarmi una fonte forse errata ma questo ripeto lo mi è passato sotto gli occhi ma non l'ho controllato quindi eticamente mi sto comportando male a livello giornalistico però mi sembra di aver letto che abbia dichiarato che alla fine le risposte che dava Bard erano prompt mandate su chat GPT e risposte incollate mi pare di aver sentito questo adesso è talmente grossa che non so se è stata una burla o altro il tema è che l'ha detto? riportato da Reuters sì qualche giorno fa sì era un bellissimo il concetto è che come dire da un lato è roba dove c'è tanta fuffa cioè ci sono tante realtà che millantano di avere questo tipo di ma poi non puoi verificarlo no? perché tu quello che vedi da fuori è l'input e l'output poi che ci sia dietro una persona che magari che ne so ci sono centomila persone che rispondono a domande su chat GPT domani non è il caso perché perché si vede da come sbaglia che è una macchina no? e anche da quanto rispondo in fretta però come dire il tema è che è molto complesso da fuori probabilmente è complesso anche per gli addetti ai lavori capire dove stia veramente il valore e di norma quando emerge o è già stato acquisito da una società grande e quindi come dire arriviamo tardi sulla notizia oppure e qua si tratta di come dire di stare sul pezzo di informarsi ma in maniera granulare di sguazzare nell'ambito del venture capital delle start up dove anche lì c'è da ripulire per ogni cosa valida bisogna stare attenti a non cadere in 99 che non valgono nulla però tendenzialmente ecco magari uscirà l'azienda che non tanto inventa un nuovo algoritmo perché quello servono risorse e un elite di 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 professionisti che soltanto le grandi aziende possono possono permettersi e come abbiamo visto nel caso di google neanche sempre poi portano la pagnotta a casa e quello quello che può fare la differenza è trovare delle delle degli ambiti di applicazioni che siano sensati dove effettivamente porti un valore aggiunto nell'articolo di oggi ho fatto l'esempio della diagnostica non l'ho fatto a caso perché ho conosciuto il papà di una di una compagna di classe di mio figlio che è matematico fa ricercatore e quando gli ho chiesto dove lavorasse in Svizzera lui lavora per una società farmaceutica di cosa si occupa di di metodi statistici di algoritmi per andare a fare diagnostica sulle immagini cioè per andare a guardare con l'occhio della macchina un attacco una risonanza magnetica e vedere quello che magari anche il medico più bravo nel fare diagnosi non riuscirebbe a vedere no perché ovviamente riesce a lavorare su risoluzioni molto molto superiori ha un occhio migliore la macchina in questo senso e quelle sono applicazioni valide questa questa persona tanto per dire mi ha dato soddisfazione la cosa per farmi capire che lavoro facesse mi ha detto in modo ironico faccio un'intelligenza artificiale ma me l'ha detto diciamo con uno spirito che ho colto e mi sono sentito più amico di questo ragazzo da quel momento in poi e nulla vedo che sono arrivate domande magari se no veramente facciamo la maratona sì 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 no bene dai iniziamo con con la prima è possibile che l'intelligenza artificiale intacchi anche la finanza ad esempio Bloomberg che ha creato il suo chat GPT cosa pensi allora adesso non mea culpa non so di preciso il chat GPT di Bloomberg se si occupi della parte di analisi ed esecuzione o della parte informativa ma sono due ambiti in cui e la seconda impatta anche me come editore diciamo molto lontanamente competitor di Bloomberg ma il tema qual è è che da un lato in realtà questa roba nella finanza c'è già c'era il training ad alta frequenza dove se non ricordo male c'erano delle case di investimento che facevano a gara a chi avesse la sede più vicina al server centrale per avere il ping basso e andare a lavorare poi di fatto anche con poche intelligenza sugli arbitraggi no? perché se te hai una latenza bassa il computer intercetta gli spread allargati e li richiude subito andando a fare profitti sicuri e questo tipo di tecnologie chiaramente hanno come per la diagnostica per immagini cioè è chiaro che vedono cose che a noi possono sfuggire o che comunque a noi richiederebbero magari anni di analisi la macchina ha una capacità computazionale per cui riesce a vederla più 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 velocemente un'applicazione che mostra questa cosa in maniera palesa ad esempio è proprio il gioco degli scacchi dove di fatto le macchine battono gli umani perché hanno più capacità di calcolo e ad altri livelli gli scacchi sono capacità di calcolo c'è stata la finale adesso dei mondiali dove i livelli arrivavano a fine partita erano esausti perché insomma il cervello a un certo punto si stanca la macchina tendenzialmente no e infatti infatti vince quindi ecco nella finanza dal punto di vista degli algoritmi di trading eccetera penso che ci siano già da anni perché non è una roba che è nata quest'anno ripeto sono tecnologie che sono emerse in maniera graduale quindi vengono continuamente ottimizzate e anche qui il livello di ottimizzazione potrebbe essere esponenziale quindi è chiaro che è roba che diventa vecchia in fretta però penso che questo tipo di penso che esistano proprio fondi che da anni investono basandosi su questo tipo di logiche assolutamente sì c'è già è chiaro che poi appunto metti le macchine a fare trading contro le macchine è un gioco a somma zero cioè qui protesta alla fine anche lì la finanza è tanto bella per quello che dicevo prima ma ci sfugge il fatto che in realtà la finanza serve ad amministrare in maniera teoricamente efficiente secondo quello che è efficiente per la società quello che è il patrimonio che quella società ha prodotto alla fine la finanza sono i nostri risparmi in senso lato ora secondo sempre logiche ecco da mano invisibile avere un mercato aperto dove c'è uno scambio serve a massimizzare questa efficienza perché oggi faccio un sacco di citazioni c'era un altro e forse la Nietzsche che diceva di tutto sappiamo il prezzo di nulla al valore è vero nel senso che è chiaro che un mercato serve anche a definire il valore delle cose a cui è giusto che ce le scambiamo mettendo insieme tutti i fattori tutta la conoscenza che abbiamo però anche è vero che se a un certo punto come dire se ne abusiamo degli algoritmi diventa una cosa fine a se stessa non solo deleghiamo agli algoritmi e alle loro logiche quello che in teoria era il nostro obiettivo di fondo cioè quello di come dire custodire al meglio e gestire al meglio il nostro patrimonio condiviso ciascuno per il suo con la proprietà privata però globalmente lo spirito dovrebbe essere appunto una sana gestione di queste risorse ora probabilmente siamo molto lontani già da prima dell'intelligenza artificiale da questo però secondo me se va avanti questo tipo di dinamica non ne viene fuori nulla di buono anche perché come si dice spesso le crisi originano sempre per delle motivazioni tra virgolette impreviste che non sono uguali una crisi non è mai uguale a quella passata perché ovviamente ci si prepara i regolatori mettono dei limiti il più possibile però alla fine c'è sempre qualcosa che vuoi non vuoi di questo risentono anche le immagini di lì perché esattamente quelle fanno inferenze sui dati che hanno che sono quelli che li diamo noi esattamente proprio quello il punto cruciale cioè secondo me se cambia lo scenario quelle possono rendersene conto dopo di quanto se ne renderebbe conto un umano quindi come dire ti faccio un esempio ti faccio un esempio molto calzante ricordo ormai sono passati credo una decina d'anni ero un analista proprio in giovane età abbiamo incontrato questa società che fa era uno dei player principali del trading di commodity mondiale si chiamava posso dire tanto ormai è passata a miglior vita si chiamava Nobel Group era una società che assieme a Glencore assieme a Beetle insomma erano di quelle società che scambiavano grandi quantità di commodity ogni giorno e avevano questo sistema automatizzato all'epoca era una sorta di machine learning diciamo primordiale che in base ai prezzi storici alla variabilità storica dei prezzi assumeva delle posizioni lunghe o corte su determinate commodity no all'inizio diciamo era molto come dire anche le stesse agenzie di rating apprezzavano molto questo atteggiamento e diciamo un utilizzo così sofisticato no di queste è bravo esatto e poi alla fine ovviamente non è stato quello l'unico dei motivi però sai il mercato ha girato in maniera completamente diciamo diversa rispetto alle serie storiche gli algoritmi sono andati un po' nel panico non hanno funzionato come perché ovviamente non avevano una base di riferimento passata esatto gli ha cambiato il paradigma sotto esattamente e quindi questi qui si sono trovati con decine di miliardi di magazzino comprato ad un determinato a montare che hanno dovuto liquidare perché quel magazzino di commodity agricole deperiva nel giro di pochi mesi hanno dovuto liquidarlo a prezzo più basso e la società poi ovviamente si è presa delle botte importanti che poi hanno portato ovviamente al disfacimento di questa realtà però per farti capire che sì è vero si automatizza però tutto parte dall'evidenza storica è un tema anche questo l'ho toccato nell'articolo e devo ammettere però che è una che è un paradigma acquisito da un autore che se non sbaglio non vorrei George Gilder di Parsia che ha scritto questo libro che si chiama Life After Google e che parlava proprio della fine dell'epoca dei big data gli ha chiamato ancora così a fronte di quello che lui sarebbe stato un futuro dal suo punto di vista dominato dalla quella che chiamiamo blockchain mettiamola così cioè comunque allora l'argomentazione sarebbe lunga però il punto centrale che a me ha aperto molto gli occhi nel leggerlo è stato proprio questo il fatto che per come funzionano questo tipo di tecnologie anche tante cose che ho detto oggi mi vengono dalla lettura di quel libro libro di 5 anni fa quindi voglio dire tanto di cappello a questo fine pensatore del nostro tempo persona che negli anni 90 schrisse Life After Television quindi hai visto di vederla lunga come dire l'ha descritta su tematiche che si sono rivelate vere perché dal suo punto di vista la televisione sarebbe finita oggi possiamo dire che non è ancora finita però insomma è un po' in coma no? perché il driver sarebbe stato la disponibilità di banda di banda di dati lui sta roba qui l'ha vista prima che 99% di noi avessero internet a casa e oggi poverino penso sia oltre 90enne quindi penso sia l'ultima diciamo l'ultimo vaticinio che ci dà però oggi lui vede questo cioè vede che quel tipo di tecnologia hanno proprio questo limite il limite del controllo e dal suo punto di vista io condivido ci troveremo a un certo punto a fare i conti col fatto che questa mancanza di controllo non la possiamo accettare e l'esempio che hai fatto con questo fondo mi sembra un po' ha fatto un tempo iniziare a finire ma mi sembra il paradigma di quello che sperimenteremo con grandi sofferenze com'è com'è no no è vero è vero e purtroppo sai è un po' un cambiamento tra virgolette epocale che farà vincitori e vinti ecco quindi rimane anche difficile pensare a me piace essere nella minoranza che per oggi crede diciamo nel settore della blockchain ma anche lì non perché si può speculare su bitcoin o su dogecoin perché c'è una visione del mondo dietro anche dietro bitcoin c'è una visione del mondo che è apprezzabile e che sarebbe bene approfondire sì magari lo faremo in una prossima in una prossima call se avrai voglia per quanto riguarda la seconda domanda ha senso investire in big tech o piccole aziende concentrate sull'intelligenza artificiale magari giusto per citare abbiamo ne abbiamo abbiamo già risposto in parte lo risintetizzo big tech bisogna allora qua quello che abbiamo visto quest'anno è microsoft che probabilmente seguendo una moda compra chat gpt che compra open i che comunque è la società che è dietro a chat gpt società che ha fatto una bella operazione di marketing perché chat gpt funziona in straperdita cioè non è gratis quella roba che noi facciamo gratis di fare le domande è una risposta se è una potenza di calcolo importante è che è tutto costo per open i e tant'è vero che uno dei motivi per cui google ha affermato di non come dire aver neanche valutato una situazione di come dire di motore di ricerca oracolo tu domandi e quello risponde è che è troppo oneroso dal punto di vista proprio dell'hardware poi anche quello lì c'è la legge di Moore è un problema che dovrebbe risolversi nel tempo la questione è che quest'anno microsoft ha se comprata questa roba qui cercando di ridare vita al perdente storico dei motori di ricerca che è bing che poverino tutto sommato sotto tanti aspetti è una scopiazzatura di google nel tempo fatta meglio ma non ha mai raggiunto quote di mercato significative no ai tempi era minimamente trascinato da intender explorer e anche quello non c'è più insomma tra l'altro sin dai tempi di Nokia Microsoft non è proprio l'azienda a cui mi piacerebbe vendere la mia se ci tengo che la mia azienda abbia un futuro e nulla quindi sulla scorta di questa aspettativa ha ha fatto ha quasi raggiunto i picchi di valorizzazione di di fine 2021 mentre le altre aziende del settore tech anche se sono in recupero in questi mesi hanno hanno recuperato meno da cosa è dato questo dal fatto che si è creata l'aspettativa che Microsoft con questa acquisizione possa guadagnare un vantaggio competitivo ma a discapito di google quindi non c'è una vera innovazione no ecco non è che non c'era il motore di ricerca adesso c'è c'è la possibilità anche qui secondo me non verrà concretizzata perché il motore di ricerca per noi utenti è meglio del dell'oracolo e c'è però questo vantaggio competitivo che improvvisamente per certi versi rende bing più performante e più di moda rispetto a google e quindi si è creata quell'aspettativa e Microsoft è salita vale la pena comprare Microsoft oggi a parte che siamo in maggio c'è selling man go away meglio di no ma idealmente c'è la possibilità che anche questo effetto sia stata una sopravvalutazione e che sia che probabilmente non sia il caso di magari che ne so Apple ha in pancia la 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 tecnologia disruptivo Amazon che che diventerà poi perché ormai siamo a giochi di creare monopoli in tre anni siamo arrivati a questo livello di 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 terminalismo del del capitalismo e sotto questo aspetto qui il problema è valla a sapere tu qual è quello su cui puntare perché potrebbe anche diventare una lotta di 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 polli da combattimento in cui vedremo queste quattro cinque grandi aziende a livello mondiale che cominciano a darsela di santa ragione e cercare di di farsi fallire a vicenda utilizzando questo tipo di tecnologie spettacolo forse anche interessante da vedere per quanto riguarda le piccole aziende concentrati sull'intelligenza artificiale vale a trovare nel senso che da un lato forse ci sono molte buone idee che si stanno sviluppando in contesti diciamo di 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 idee di 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 accademia o o o nell'ambito di incubatori e cose di questo genere qua ma spesso anche qui insomma frequentando un po' questi questi contesti il la tendenza al copia e incolle al seguire le mode è grande quindi c'è tanta pula da pulire per trovare un po' di grano il tema è che come dimostra anche l'acquisizione di open AI questa roba non fa in tempo cioè o veramente la vai a beccare molto presto in crowdfunding e o diciamo riuscendo ad accedere a fondi che fanno questo tipo di investimenti e che prendono in pancia anche questo però ovviamente vuote perché pure quelli comprano un po' di tutto e la maggior parte va a zero quindi comunque un rischio mediato oppure sta roba qui non fa in tempo ad andare in IPO e diventare acquistabile diciamo da noi investitori privati prima di essere acquisita era una delle bitte quindi sì potenzialmente potrebbe aver senso potrebbe essere l'affare della vita investire sull'azienda piccola di insercizienza artificiale quella giusta capire quale sia questa azienda è un lavoro da fini analisti probabilmente certo diciamo che effettivamente sai dicevi bene sulle big tech sai che ci stanno lavorando Microsoft con OpenAI Amazon Bedrock Alphabet Google AI se vogliamo credere che ci stia lavorando veramente sono messi veramente sono costretti per non crollare in borsa ad annunciare che sono messi benissimo che stanno per lanciare una cosa fighissima però certo poi alla fine è un black box esatto non sai cosa c'è dietro hai ragione diciamo che tra quelle ecco che figurano come principali componenti di magari ETF fondi che replicano l'intelligenza artificiale ovviamente oltre alle big tech tanto americane quanto cinesi quindi le varie Baidu Alibaba Tencent ci possiamo mettere anche IBM che c'ha ormai dopo lo spin off di Kindrill ha una parte che vale ancora poco in termini di fatturato ma che viene spesso sponsorizzata su cui stanno puntando per sviluppare appunto intelligenza artificiale poi ovviamente i chip di NVIDIA con livello proprio di calcolo campo anche quelle su aziende esatto anche quelle non ho fatto il tempo ad inserirle oggi ma il pensiero che avevo avuto parte dello sviluppo sarà anche lì perché non è escluso che poi tra le innovazioni che possano creare valore di borsa ci sia anche un'innovazione hardware esatto andando a sviluppare processori che siano specifici per questo tipo di calcoli noi sappiamo che ci sono le CPU che sono diciamo le unità centrali di calcolo dei nostri computer ma ad esempio la parte grafica viene gestita da altri tipi di processori che si chiamano GPU che sono differenti ad esempio per il mining di Bitcoin si utilizzano le GPU piuttosto che le CPU perché sono più efficienti per fare quel tipo di calcoli lì quelli diciamo del mining quindi anche qua ecco no infatti era proprio quello il mio il mio punto cioè come dicevi tu vattela a trovare no? la giusta società però la simmetria informativa tra l'investitore e chi ha diciamo io penso che sia un settore che mette veramente in difficoltà grande anche gli esperti perché girano un sacco di infatti io sono assolutamente d'accordo infatti per quello il messaggio che volevo passare almeno lato mio è piuttosto che puntare su un cavallo su una scommessa che effettivamente non sai se potrebbe essere vincente perché non provare su appuntare su quei fornitori che sai alla fine sono leader per esempio sub fornitori come può essere Nvidia per le GPU AMD sullo stesso tipo di servizio oppure le società che si occupano del design cioè dei software dei GPU per esempio Cadence per esempio Synopsys di cui abbiamo parlato anche in un'analisi cioè questi qui banalmente fanno i software che poi Nvidia Intel utilizzano per disegnare GPU sai che questo mercato è un mercato oligopolistico sono veramente 4-5 società che vanno questo tipo di software se le cose vanno in quella direzione e se effettivamente verranno utilizzati quei GPU molto probabilmente queste società avranno poi peraltro operano con contratti proprio a testimonianza di quanto forti siano con i concorrenti addirittura queste società di software siglano contratti di 2-3 anni di durata con le varie Nvidia che non sono piccole società quindi hanno anche un certo potere contrattuale per fornire il loro software in abbonamento ecco quindi secondo me questo potrebbe essere sotto questo aspetto bravissimo infatti infatti questo è stato un cambiamento epocale per tutti diciamo parlando ovviamente da Microsoft ad Adobe sono tutte società che hanno convertito il loro modello di business questo è un altro elemento che forse vale la pena trattare ora io diciamo tanto ormai sarà in prescrizione non penso di aver mai avuto una copia originale di Windows forse un paio dai nella mia vita però nella mia scuola dove non c'era la carta igienica ogni impostazione era dotata del suo cd con la licenza questo per dire cosa per dire che uno dei canali per cui potrebbe andare a sfondare questo anzi forse quello dove più probabilmente lo farà è dove più pericoloso che lo faccia questo tipo di tecnologie è proprio diciamo la pubblica amministrazione mettiamola così in senso lato e questo è estremamente controverso quindi ecco se c'è una società che può fare questo bisognerebbe puntarsi eh no ha già fatto una bella acquisizione diciamo che ce l'ha nel DNA no quel tipo di 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 approccio sì sì è vero è vero infatti guarda lato Italia c'è una piccola società ovviamente si chiama GP che si occupa proprio di vendere sistemi di software di vario tipo dai sistemi di pagamento ai sistemi proprio di gestione eh di reportistica del personale ovviamente non parliamo di machine learning o di intelligence artificiale parliamo di software gestionali e questa GP società piccola italiana lamenta sempre proprio eh la difficoltà di penetrazione dell'amministrazione pubblica italiana no dice sempre sì è un mercato che effettivamente ha ampio margine di sviluppo ma cioè si fa fatica ecco è già molto penetrato in maniera diciamo è tipo la zecca no che è vero è vero no però diciamo tornando al al punto diciamo di piccole società chiaramente diceva bene secondo me Dimitri è difficile trovare il cavallo di battaglia cioè in questo momento bisogna studiare il che affascina tantissimo bisogna magari seguire in realtà come My Finance Club che possono darti magari l'indicazione giusta non come consiglio secco di investimento ma una base su cui puoi approfondire e studiare e ragazzi cioè per noi investitori privati se vogliamo sovra performare il mercato c'è da far questo non è scommettere nel momento in cui lo si è fatto con raziocinio da un lato raccogliendo informazioni e dall'altro avendo composto un'analisi che tenga e facendola poi lavorare nel momento giusto per il resto approfitto anche per dire che insomma noi abbiamo una collaborazione con money.it abbiamo i vostri i nostri abbonati hanno la possibilità di accedere ai contenuti pro ad alcuni contenuti pro che vengono pubblicati sulla nostra piattaforma viceversa anche anche gli abbonati di money.pro hanno la possibilità di accedere a qualche contenuto che pubblichiamo noi quindi oltre al fatto che abbiamo diciamo uno scambio di vantaggi per i nostri reciproci abbonati ciascun abbonato di un servizio può abbonarsi all'altro con uno sconto che trova nell'area riservata infatti infatti chiudiamo con esiste un ETF su questo tema o per ora non ha senso darci un'occhiata a questa domanda hai risposto tu prima sì sì allora ci sono ci sono ci sono sicuramente ci sono e sono anche abbastanza diversi diciamo ho fatto un po' i compiti a casa ce ne sono tre che alla fine sono quelli di dimensioni più grandi non parliamo di dimensioni esagerate perché alla fine parliamo di fondi che valgono 300-400 milioni massimo quindi non sono un gran che però per esempio c'è il wisdom tree artificial intelligence che è quello più costoso ed è quello peraltro più americano è pieno di società del Nasdaq perché appunto si rifà all'indice Nasdaq artificial intelligence index è chiaramente fatto di società prevalentemente loss making quindi che non generano flussi di cassa quindi attenzione perché ha un grado di volatilità molto elevata immaginate bene che come dicevamo prima se il valore di una società è fatta dai flussi di cassa attualizzati che genererà di qui ai prossimi 5-10 anni e da un valore terminale queste società che non fanno flussi di cassa in questo momento hanno tutto il loro valore o quasi tutto il loro valore riposto nelle aspettative quindi in questo momento dove c'è molta enfasi una grande narrativa sull'artificial intelligence è chiaro che queste società hanno guadagnato del terreno tant'è che l'indice il wisdom 3 il fondo l'etf è già più 17% dall'inizio anno però attenzione perché nel momento in cui cambia la narrativa un parto però ha performato in maniera simile certo esattamente peraltro peraltro quindi capite bene bisogna fare assolutamente attenzione alternative a questo fondo magari un po' più diversificato c'è la mundi stocks global artificial intelligence che è un po' più diversificato e meno tech il tech conta circa il 50% dell'intero investito rispetto al 65% dell'altro poi c'è un po' di industrial un po' di beni di consumo discrezionali ci sono società come dire più piccoline come per esempio C3 AI che fa software di intelligenza artificiale per automatizzare i processi delle imprese oppure Wipat che è una concorrente di Microsoft nella parte di automatizzazione dei processi di CRM oppure STEM che è una società che si occupa di utilizzare l'intelligenza artificiale per gestire lo stoccaggio di energia di gas e rendere diciamo quelle che si chiamano smart grid quindi allocare l'energia elettrica quando serve nei punti di picco più elevato evitando quindi che ci siano dei blocchi di fornitura di energia elettrica e poi ovviamente c'è dentro Palantir che se vogliamo è un po' una di quelle società che fa molto uso dell'intelligenza artificiale sia per diciamo i prodotti governativi quindi Palantir è passata alla storia per essere la società che grazie all'intersezione di dati di movimenti finanziari carte di credito e dati visivi delle telecamere poi ha beccato Bin Laden quindi diciamo è diventata famosa per questo motivo però ricordate sempre che sono tutte piccole società che perdono soldi cioè Palantir magari adesso si ha chiuso il primo trimestre con con una leggera un leggero profitto però sono tutte società che hanno un profilo di rischio chiaramente molto elevato quindi bisogna fare molta attenzione sicuramente investendo in un in un etf non vi prendete rischio specifico quindi avete chiaramente il beneficio della diversificazione a fronte ovviamente di minori upside ma ricordatevi anche che si tratta in generale di tutte società abbastanza volatili che chiaramente soffrono periodi di rialzo dei tassi o periodi in cui magari la narrativa su questo determinato settore può un pochettino sgonfiarsi quindi insomma prudenza ecco questo secondo me è il messaggio che potremmo passare per concludere poi dicevi anche quando ci sono questi confezionamenti dal punto di vista finanziario ci sono anche in questo caso evidentissime anche logiche commerciali e non c'è un benchmark gli etf nascono per replicare benchmark ben definiti con costi di gestione bassi in questo caso a me non è chiarissimo quale sia il benchmark di riferimento di questi etf se sono etf non fondi in fondi gestiti adesso non so quindi come dire in questo settore in particolare è bene dal mio punto di vista non entrarci a meno che si abbiano ragionevoli motivi per voler puntare su qualcosa perché lo si è studiato e perché si pensa di aver intercettato un trend proprio per le motivazioni di bilancio che hai magistralmente esposto fino a poco fa insomma comprare società che perdono se volete ve ne faccio una io domani mattina metto sopra un insegna che ho fatto con intelligenza artificiale e la voto attenzione io non lo faccio ma credo che più di qualcuno abbia già provveduto sì ma guarda anche per concludere cioè secondo me dobbiamo anche immaginare che forse il paradigma di investimento cambierà nei prossimi anni cioè abbiamo avuto anni anzi decenni di tassi mediamente in ribasso adesso ci affacciamo ad un periodo in cui i tassi saranno mediamente più alti quindi il paradigma di investimento di società grow che perde soldi perché io comunque sono disposto ad aspettare che questa società mi genere i flussi di cassa tra 5 e 10 anni adesso con un costo di finanziamento che è così alto chiaramente riduce aumenta come dire il mio costo opportunità quindi a quel punto dico ma sai che c'è piuttosto ci rimetto su una società che ha minore margine di crescita ma mi dà i soldi adesso infatti è molto controintuitiva la crescita di questa prima parte di anno sotto sottoranti aspetti io ammetto di non comprenderla e francamente ecco sono molto ansioso di vedere come ripetevo prima è maggio quindi di vedere dove saremo proprio novembre sono molto curioso sì 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 concordo concordo anche noi nelle nostre previsioni siamo stati abbastanza pessimisti vediamo un po' come evolverà ecco il prosieguo dell'anno chi si pone short è ottimista certo vero a tutto c'è un rimedio diciamo va bene va bene grazie mille Dimitri è stato veramente un piacere personalmente penso anche per chi ci ha ascoltato e posso dire che spero veramente di averti presto insomma ospite per parlare anche di altro e ti ringrazio ancora grazie a voi buona serata a presto